Ciao scopero Mario! No! Uh! Uh! Tizia! Tieni! Uh! Eccoti qua Doi stai? Un giacino? Ma la dite dai suoi mani Uh! Tia vittima Mario piano non bullizzare Uh! Lea! Ciao Ciao scopero Non si fa Il monellaccio Non essere Molto monellaccio Hai capito? Branco di Montegnub Che si presenta oggi? Ciao bolt Ecco che lui Aspetta Che Vuole Il bastoncino Aspettate Volto vuole il bastoncino Uno Due Due e mezzo Tre! Eccolo Eccolo Uh! Indiettina Da un sacco di tempo Che non faccio video Da mettere su youtube Lo sai questo? Ma ecco che arriva pure Pollon Da poco arriva pure Pollon Da poco arriva pure Pollon Kira Kira Grandissima Kira Il monellaccio Il monellaccio Il monellaccio Il monellaccio Eccolo Lea Che lo Che lo Che lo Che lo gioca addosso E ci gioca Ciao Piccoli Piccoli Lea Lea E India Contro gli altri cani Guardate come giocano violentemente Guardate come giocano violentemente Che non sfugge una scena Ok Ok Guardate un po' Come si sfregano Si sfregano Loro due Guardate un po' Guardate un po' Come si sfregano Guardate Un po' Questi due cani Certo Nei croccantini Brutto scrofetto Ecco perché Non lo lasci India Che cosa c'è Gordone Brutto scrofetto Brutto scrofetto Eccoti qua Brutto scrofetto Ma che fuggia una scena Eccola Ecco gli altri Gli altri Che giocano Ecco gli altri cani Ecco l'altra metà di cani Che stanno giocando Fra di loro Certo Adate I nostri cani Con amore con affetto certo che fai tu ti mangi le cacchie dei cani scrofa che lancia il merdo vai suami vai india 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 non riposta lascia certo ritorniamo all'altra metà ritorniamo all'altra metà ecco che succede guardate che vogliono tutti bere maria posso aprirla possiamo aprirla vai perché stava bevendo nella bottiglia lea chi è questa bottiglia ma tu vuoi giocare con l'acqua io ce lo so no a volte non si gioca con l'acqua non è periodo no non è periodo ma non è periodo guarda Anna ha dato due ha fatto fortissimo balta balta ecco di qua, ecco la padrona del piatiello che dà questo urlo lui che sta legato perché sta passando un altro cane che non va d'accordo con lui tutti qui biscottino non dire mai la parola biscotto perché sennò tutti quanti ti vengono vicino ecco di qua, arriva Valeria, legate un altro peccato, le pazza di vola ma perché mica loro non riescono a farlo allora sì ok ok